Il tempo dei segreti Di Padre Livio con Diego Manetti Edizioni PM Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti Un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria E con me e con il direttore Padre Livio Fanzaga Proseguiamo nell'esame di questo tempo dei segreti In cui già ci troviamo immersi attraverso l'esame dei segni degli ultimi tempi E se la volta scorsa abbiamo esaminato il dilagare dell'ateismo Il dilagare della immoralità e anche del sincretismo religioso Oggi verremo a parlare di un altro segno di questi ultimi tempi E il segno della cosiddetta stagione dei martiri E' opportuno riconoscere quasi il segno dell'anticristo In tutto questo male che sta segnando il cammino storico della Chiesa e dell'umanità E se possiamo fare riferimento alla prima lettera di San Giovanni Apostolo Per riferire quella che è l'azione anticristica in ordine alla menzogna Ricordiamo che proprio San Giovanni si interroga dicendo Ma chi è menzoniero? Se non colui che nega che Gesù è il Cristo E poi precisa ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio Questo è lo spirito dell'anticristo che è già nel mondo Certo che questo segno della menzogna, dell'impostura non ci deve spaventare La regina della pace ci rassicura non temete sono con voi E al tempo stesso anche San Giovanni ha questa bella espressione Quando dice voi siete da Dio figlioli avete vinto questi falsi profeti Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo Come dire la vittoria di Cristo Ma accanto a questa arma così subdola Così difficile a volte da prevedere Un po' come un gas che entra in un ambiente e non si vede Ma causa la morte di quanti ci vivono Portando alla morte della fede in questo caso Ecco che c'è un'altra arma ancora più forte Molto violenta Che è la furia omicida Quella seconda arma anticristica di cui parla lo stesso Gesù Nel Vangelo secondo Giovanni capitolo 8 versetto 44 Quando dice proprio che il diavolo è menzognero e omicida E anche la Madonna stessa nel messaggio del 25 marzo 1990 Quando ci ha detto di volerci proteggere da Satana Che intende distruggerci con ciò che ci offre Cioè vuole uccidere la vita di grazia nella nostra anima Ma anche la vita dell'umanità attraverso inganni, seduzioni e peccati Questa seconda arma Padre Livio è un segno preclaro Dell'avvicinarsi degli ultimi tempi Mi sto riferendo proprio alla persecuzione contro i cristiani Siamo chiamati come cristiani a rendere testimonianza Lo ricorda anche il Catechismo della Chiesa Cattolica Ai numeri 2471 e seguenti Nelle situazioni in cui si richiede che si testimoni la fede Il cristiano ha il dovere di professarla senza equivoci Il dovere dei cristiani è agire come testimoni del Vangelo E poi il martirio è la suprema testimonianza resa alla verità della fede Forse un tempo Padre Livio avremmo letto questi passaggi Pensando che si potessero riferire solo agli esordi della Chiesa Ma oggi sono quanto mai attuali Perché oggi uno dei segni degli ultimi tempi Uno dei segni dello scatenamento satanico Che prelude al tempo dei segreti È proprio la persecuzione violenta Nei confronti di Cristo Attraverso l'uccisione di tanti cristiani Sì, a questo riguardo Fa' giusto che sia distinguere due tipi di persecuzione C'è una persecuzione dei cristiani Che comunque è impossibile a quella dei primi tempi della Chiesa Cioè la persecuzione dei pagani Nei confronti, diciamo, di questa nuova religione Per cui capisco benissimo Che per esempio i cristiani in India Per fare un esempio Che è un continente Un miliardo e trecento milioni di persone Dove sappiamo che l'induismo È una religione Chissà perché La si ritiene tollerante Invece è molto intollerante Tu pensi che il Buddha è nato in India Che il buddismo aveva quasi conquistato l'India E l'induismo in poco tempo è riuscito a risorgere E a cacciare via i buddisti dall'India In India sono meno buddisti che cattolici Per dirtene una Però c'è anche una persecuzione Diciamo nell'altro continente La Cina Ma lì è una persecuzione È in base a una ideologia occidentale anticristiana Il marxismo Però in Cina ovviamente I cristiani non c'erano Sono passati dal confucianismo Se vogliamo Dal shintoismo Dal taoismo Sono passati al marxismo Però quelli che perseguono il cristianesimo in Cina Non sono stati dei cristiani Insomma Invece è diversa la situazione Che si è avuta in Russia Nei paesi dell'est Con il tempo del comunismo Perché Chi perseguitava i cristiani Erano tutti battezzati Anzi Stanno Eravano addirittura In seminario Quindi Ti basti dire questo E anche Hitler era battezzato Per dire Anche i nazisti erano battezzati E Adesso Il nuovo totalitarismo Che è una persecuzione bianca Possiamo chiamarla così Cioè Per il momento Non ti mettono ancora in galera Insomma Però Qui è diversa la persecuzione È una cosa diversa E molto più dolorosa Perché qui Noi abbiamo a che fare Con gente che Dopo l'ultima guerra mondiale Insomma Dove essere grata a Dio Per avere sconfitto L'idrogia del male Il nazismo Il comunismo Insomma Le democrazioni occidentali Hanno fatto una battaglia Che era anche una battaglia Della fede Anche la grande battaglia Che ha fatto Reagan Diciamo così Anzi Nel nome Proprio nel nome di Fatima L'ha fatta Reagan Questa battaglia Contro il comunismo L'ha fatta nel nome della fede Contro l'impero del male Ora Tutte quelle democrazie Che è l'occidente In particolare l'Europa Perché l'Europa È la testa del serpente A mio parere Perché i grandi tradimenti Sono venuti tutti qui in Europa Prima con lo rivoluzione francese Poi Le ideologie del male Che sono il comunismo E il nazismo E sono nati in Europa Poi il nuovo totalitarismo Che fa capo A mio parere A Nietzsche Con la teoria del superuomo È nato in Europa Allora In Europa In occidente in generale Ma soprattutto in Europa Più in Europa Che negli Stati Uniti O nell'America Latina C'è proprio Una insofferenza Nei confronti del cristianesimo C'è il disprezzo Del cristianesimo In un paese Come l'Italia Non puoi parlare di Cristo Pubblicamente Neanche in televisione È riservato solo a Radio Maria Ma che non alzi troppo la voce Capito Se no si deve tacere Si parlerà Di famiglie gay Di perversioni sessuali Tutto che vuoi tu Guai a parlare della famiglia Con padre Con la madre Guai a parlare Dei figli nati Da un rapporto normale In un patto d'amore Follomo alla donna Vieni rischi Di andare in galera Perché Sei stato intollerante Nei confronti di altri Guai a parlare Della religione cristiana Come Della pienezza Della verità Perché viene accusato Di essere Intollerante Verso le altre religioni Guai a farvi Per esempio In classe Anche se I 4 quinti Il 90% Sono cristiani Perché sono Tiofe Cioè In Italia In Europa In Europa Soprattutto C'è L'intolleranza Del cristianesimo Ci sono i cristiani Che hanno perso La fede Che hanno ripudiato La fede Che sono passati Dall'altra parte Che perseguitano I cristiani Che sono rimasti Fedeli Questa è Una novità Ed una cosa Molto grave Cioè In poche parole C'è Lo schieramento Dei rinnegati E dei traditori E come sappiamo Rinnegati E i traditori Diciamo Sono quelli Che più perfidamente Poi Si atteggiano Per giustificare Se stessi Contro quelli Che prima Erano i loro Fratellini Alla fede Insomma In questo scenario Di tenebra Ecco scatenata Dalla persecuzione Anticristica Dobbiamo pensare Che ci sono anche Delle piccole luci Da una parte Riconoscere il senso Del martirio cristiano Per la chiesa stessa Perché in fondo Come diceva Tertulliano Sangue dei martiri Seme di nuovi cristiani E basti pensare Come nei primi tre secoli Sono migliaia I martiri cristiani E tutti i primi papi Di fatto Erano poi martiri No? Assegnare Proprio nel sangue La testimonianza Della fedeltà Alla fede ricevuta Fino alle estreme conseguenze Pensiamo Come Accanto Al tradimento Di Giuda Però possiamo anche Indicare Il primo martire Negli atti Degli apostoli Dal capitolo 7 Quando ricordano Stefano Che muore come Gesù Dicendo Signore Non imputar loro Questo peccato Chiede perdono Per i propri carnefici Pensiamo A Sant'Ignazio Di Antiochia L'eroismo In questo secondo secolo Della chiesa cristiana Di colui Che chiede Ai suoi fedeli Di non impedire La sua morte Perché dice Io non voglio più Vivere secondo gli uomini Lasciate che io sia Imitatore Della passione Del mio Dio I martiri Hanno segnato Tutto il cammino Della chiesa Ma posso pensare anche Visto che si parlava Prima del mondo orientale A Shabbat Bhatti Ministro delle minoranze In Pakistan Che è stato Assassinato il 2 marzo 2011 A Islamabad Da uomini armati E ha sempre detto Han tentato di corrompermi In tutti i modi Ma io non ho mai Accettato una Una poltrona Un posto di potere Voglio solo un posto Ai piedi di Gesù Voglio vivere per Cristo E per Lui Voglio morire Accanto a queste Grandi luci In tutta la storia Della chiesa Vediamo però Che la persecuzione Non è mai Venuta Meno In che senso Però Padre Livio Oggi questa persecuzione Ha anche indossato I guanti bianchi In che senso Oltre a guardare Come notizie Quasi lontane da noi Attentati Atti di fondamentalismo Anticristiano Dobbiamo imparare Riconoscere la persecuzione Interna E devo dirlo Molto sinceramente Interna al mondo cattolico Interna al mondo cristiano Interna anche Alla chiesa stessa Sì dunque Solo il tema Della persecuzione Della fase tertuliana I sangue dei martiri Insieme di cristiani A mio parere Occorre Fare una riflessione Perché Comunque Diciamo I tempi Sono nelle mani di Dio Però io ho visto Come l'islam Cioè Io ho visto questo Che Mentre Chi non ha mai Conosciuto Cristo Non ha mai Conosciuto il cristianesimo E l'ha perseguitato Vedi per esempio I primi cristiani No Effettivamente Quel sangue Di martiri Ha prodotto Le conversioni Questo non c'è dubbio Basti pensare Che Saulo Se l'ha convertito Ne vedeva Il martirio di Stefano No Quindi Questa frase è vera È vera soprattutto Per quelli che Non hanno mai Conosciuto Cristo E per la prima volta Lo vedono Lo conoscono Attraverso i cristiani Ma quelli Che hanno conosciuto Quelli che Che sono venuti Dopo Dopo il cristianesimo Che hanno conosciuto Cristo in un certo modo O l'hanno rinnegato Lì A mio parere Le conversioni Sono molto più difficili Ti parlo dell'Islam L'Islam è venuto Dopo il cristianesimo L'Islam è venuto Come una religione Che ha negato Cristo Non dimentichiamolo L'Islam è venuto Per dire Che Cristo Non è il figlio di Dio Non è il reventore del mondo Lui non era sulla croce Cristo è però Comunque un profeta Un profeta di Maometto E sua madre Maria È comunque una vergine Quindi Diciamo che nell'Islam Al di là di tutto Un rispetto per Cristo Un rispetto per la sua madre C'è Però Non c'è dubbio Che l'Islam Sia il negatore Del cristianesimo Sia un persegutore Del cristianesimo E dove l'Islam È passato I cristiani Non sono più Diciamo così L'Islam Sì in padronito Tutto il Medio Oriente Sì in padronito Tutta l'Africa orientale E tutta l'Africa Sì Del nord Dove Egitto Libra Tunisia Algeria Eccetera eccetera Marocco Lì non c'è più traccia Di cristianesimo In pratica Eccetto i copti Eccetera Però E quindi Non è sempre vero Che il sangue dei marti Assieme dei cristiani Laddove C'è una religione Come l'Islam Che viene dopo il cristianesimo E si ritiene Si ritiene La vera religione Là C'è Si Si sparge il sale Perché non cresce più niente La medesima cosa Vale anche per quanto riguarda I Diciamo L'Occidente Cioè laddove Laddove Si Si sono E si affermano Diciamo Si afferma La religione umanitaria Si afferma La religione umanitaria Si afferma la religione umanitaria Che si va a Dio Là dove c'è il tradimento Detto in parole povere C'è il tradimento Delle masse Di confronti di Cristo Le conversioni Sono molto Ma molto più difficili Nonostante i martiri E nonostante le testimonianze Io A questo riguardo Sono piuttosto pessimista Cioè A mio parere Quando la Madonna dice Che Molti verranno Dove c'è il segno Si inchinoccheranno Ma non crederanno Sono Sono Gli es-cristiani Dell'occidente Che vanno per vedere Sono i modernisti Che vanno per vedere Ma non si convertiranno Cioè io Ritengo Nel tempo I dieci segreti Si convertiranno Gli hinduisti I musulmani Si convertiranno I buddhisti Si convertiranno Le persone semplici Ma le fortezze di Satana Resisteranno Altro che se resisteranno Non crederanno E Loro stesse Quelle fortezze lì Prepareranno La battaglia finale Nella quale appunto Tutto si risolverà Con la venuta di Cristo Della gloria Potremmo tentare Di unire i due estremi In quella che la storia Bimillenaria Della chiesa Pensando alle origini Quando Gesù stesso Rivela la natura Di quella che è la persecuzione Scatenata contro Chi porta il suo nome Cioè contro i cristiani Al capitolo 15 Del Vangelo secondo Giovanni Versetto 18 Quando dice Se il mondo vi odia Sappiate che prima di voi Ha odiato me Possiamo dire In realtà è come una vocazione Quasi naturale Quella del cristiano Ad essere perseguitato Perché la chiesa Rivive la passione di Cristo Ma se veniamo Alla chiusura Del cammino storico Della chiesa Mi colpisce anche Il riferimento Alla terza parte Del segreto Di Fatima Quando si vede L'immagine di questi due angeli Che con Annaffiatoi di cristallo Raccolgono Il sangue Dei martiri Per farne proprio Semi di nuovi cristiani Ecco mi colpisce Perché è una scena In cui Si vede che il papa stesso Viene Viene ucciso Quindi viene da dire In realtà Un segno di questi ultimi tempi Padre Livio È comunque Che la persecuzione Sarà l'attacco Che il maligno Scatenerà contro la chiesa Ma sarà forse anche Il momento In cui Con più forza Chi crede Si unirà a Gesù Per affrontare L'ultimo combattimento Dunque Il programma Del diavolo Che è sempre l'unico del giorno E riprendersi il mondo Dopo che Cristo Lo sconfittò Con la croce Quindi Tutta la storia Della chiesa È diciamo così Sotto attacco E quindi è necessariamente Una storia di persecuzione All'interno All'esterno della chiesa Come diceva Sant'Agostino Mi veniva in mente Arlimarru Che era un grande storico Di Sant'Agostino Lui diceva che Era un francese Diceva che le persecuzioni Sono o delle grise Cioè le persecuzioni Che abbiamo fatte Contro la chiesa O par le grise O le persecuzioni Che abbiamo fatte Dalla chiesa Quindi questo purtroppo È una realtà Sempre possibile Lo vediamo Nella storia Della chiesa Questo Soprattutto i gruppi Eriticali Che Dicevano di essere La vera chiesa Come hanno Nociuto molto Alla chiesa Dunque Questa è la Diciamo Questa è Una costante Di tutta la storia Della chiesa Adesso però A mio parere Dobbiamo A mio parere Dobbiamo Come hai detto Molto bene tu Citando L'ultima visione Del segreto di Fatima Cioè le anfore Non c'è dubbio Non c'è dubbio Che Il piano di Satana Sia questo Cioè il piano di Satana Oggi È quello Di distruggere la chiesa E di farsi adorare Il posto di Cristo Di eliminare Ogni cristiano Che non c'è più Nessuna traccia Di cristianesimo Quindi Questa Satana come fa A realizzare questo Lo farà Attraverso Attraverso Ha in mano tutto Satana regna Ha in mano La politica Ha in mano Le grandi centrali mondiali Della finanza Quelle che comandano Anche lì sopra Degli stati Ha in mano Tutti i mass media La comunicazione Ha in mano tutto Satana ha in mano tutto E volfo a fuori La chiesa E tutti i cristiani Questo è poco Ma sicuro Che è il suo programma Ma che succede? Succede Che quando lui Sta per attuare Il suo programma Arriveranno Non i castighi di Dio Ma arriveranno Quelli che Come è arrivata La pandemia Arriveranno Altre cose Cioè Guerre Guerre virali Quel che vuoi tu Io mi ricordo che Una volta ho detto a Maria L'unica volta Che si è smollata Ho detto a Maria Scusa Maria Ma si chiama Regina della pace Perché Nei Dici Segreti Ci saranno le guerre Le metto No no Mica sono tutte guerre Mi ha detto Quindi Cosa succederà Che nel tempo Dei Dici Segreti Proprio Quelli che ormai Pensano Di Eliminare Il cristianesimo O tu diventi O tu diventi Idolatra O ti fanno fuori Questa è L'opzione Che avremo davanti Ma in quel contesto Accadrà Qualcosa di inatteso Dal quale appunto La Madonna Ci preserverà Dicendolo Tre giorni prima E allora Tutti i giochi saltano Perché l'umanità vedrà Che alla fine Chi si è salvato È la madre di Dio Perché alla fine Gli uomini Guardano Al loro benessere Cioè Come adesso In tempo di pandemia Noi tutti guardiamo Quello che Ci riescono a salvare Magari forse uno Che trova il vaccino Sicuramente Lo adoreremo Quasi Per dirne una Allora Per me Il piano di Satana E di suoi adepti È Riprendersi in mano Il mondo Eliminare Cristo Il cristianesimo E la chiesa Ma In quel tentativo Succederà Quel che deve succedere Il tempo dei segreti E allora Lì Lì Loro Avranno una grande sconfitta In questo tempo Di persecuzione Che è proprio segno Dell'avvicinarsi Del tempo Dei segreti Del primo combattimento Scatologico Dove La donna Vestita di sole Fronteggerà Il dragone infernale E vediamo che La virtù Che dovrà essere Il sostegno Di quanti saranno Chiamati al martirio È proprio la fortezza Che è una virtù Dimenticata dal mondo D'oggi Che non ha a che fare Semplicemente Con la forza fisica Non è uno sfoggio Di potenza Ma invece La capacità di essere Perseveranti Ed è un dono E Berdanos Nei dialoghi Delle carmelitane Ricorda ad esempio Come forse Sarà il dono Della fortezza Capace di ispirare Scelte Anche in quanti In un primo momento Si saranno tirati Indietro Sarà dunque Questo anche Un segno Padre Divio Di quanto Verremo chiamati A misurare La tenuta Della nostra fede Quando magari Saremo tentati Di vacillare Dinanzi all'essere La tua grazia La tua grazia Vale più della vita Cioè Vorrei dire Che chi Rinnega Cristo Per paura Rischia di andare All'inferno Diciamo le cose Come stanno Perché l'ha detto Gesù Cristo E chi crederà Sarà salvo Chi non crederà Sarà Piuttosto Piuttosto che Rinnegarti Piuttosto che Tradirti Muoio Dobbiamo Prepararci A dire questo Nella grazia Dello Spirito Santo Nella forza Della preghiera Essere pronte Al martirio Come sono stati Tanti nostri Fratelli Della fede Ma scusa Adesso non è per dire Ma ci sono tanti soldati Che sono morti Per la patria Ci rendiamo conto E la patria È una bella cosa Ma la patria Non è mica Dio Non è mica il paradiso Quindi Come ci sono Delle persone Che su un piano umano Anche diciamo Noi lo vediamo Anche nelle cose Un signore Qualche volta Ha capitato Che si butta Nell'acqua Per salvare un bambino E poi muore lui Salvino Cioè voglio dire Noi abbiamo anche esempi Di eroismo Vogliamo dirla Fino in fondo In questo tempo Di pandemia Quanti medici Ha rischiato la vita Non c'avevano Né mascherine Né guanti Non c'avevano Né camici Ha rischiato la vita Per i malati Dico quindi C'è Anche a un livello umano Una disponibilità A donare la vita Perché la vita La si realizza Nel dono di sé Allora noi dobbiamo Per Gesù Cristo Essere pronti Per confessare A Gesù Cristo Per essere Vedere Gesù Cristo Dovamo essere pronti A subire il martirio Tu guarda Quanti martiri Ha prodotto il comunismo Una cosa incredibile Di martiri Che ha prodotto il comunismo Allora noi dobbiamo Affrontare i tempi Che ci aspettano Adesso Ha un martirio Colpi di spillo Perché si sa Bisogna portare Molta pazienza Bisogna pregare Per i persecutori Bisogna avere Lo sguardo Per la loro anima E per la loro Sardezza eterna Come ha fatto Santo Stefano E come ha fatto Gesù sulla croce Soprattutto Però Che a mio parere Che noi dobbiamo mettere Nella nostra Professione di fede Oggi Dire Signore Piuttosto che Rinnegarti Preferisco morire E questo Deve essere Una scelta Irreversibile Una scelta Irreversibile Una distinzione Che hai fatto Sovente Sulla persecuzione Riguarda anche Lo scenario In cui hanno avuto Luogo Hai spesso distinto Le persecuzioni Cruente Che hanno colpito Ad esempio La parte Est Dell'Europa Quando il regime Comunista Non ha risparmiato L'utilizzo Della forza Per reprimere Una fede Che sembrava Minacciare La stabilità Politica Del regime Stesso In occidente Forse c'è stata Più Una persecuzione Nel senso Di un'opposizione Culturale Appunto Con i guanti bianchi Che in realtà Ha portato Poco a poco A quella apostasia Che oggi Vediamo diffusa Viene quasi da credere Che questo tempo Di difficoltà Che abbiamo vissuto Così a lungo A causa della pandemia È stato forse Un aiuto Paradossale Riconoscendo Tutte le negatività Ovviamente Che hanno toccato La società E le persone Nella salute Nella tranquillità Ma quasi un aiuto Per arrivare ad una radicalità Di scelte Di scelte Di testimonianza E mi ricollego Proprio a quello Che avevi detto prima C'è qualcuno Ha avuto Il coraggio Di dire Che la salute Viene prima di tutto Ma forse Io lo dico un po' Da filosofo della politica Dimenticandosi Che i beni fondamentali E i beni principali Sono beni Di ordini diversi La vita È un bene fondamentale Perché senza quello Non se ne hanno altri Ma la libertà Ad esempio È un bene principale E ci sono persone Che hanno scelto Di sacrificare La vita Per la propria fede Per la libertà Per gli ideali Che sono stati professati E pensando Ad una persecuzione A me viene Da dire Che forse Nessuno Si sognerebbe Di criticare Il medico Che rischia la vita Per andare Ad aiutare Nel tempo di pandemia Chi è malato Però abbiamo visto Sacerdoti coraggiosi Che hanno affrontato L'epidemia A rischio della propria vita Per portare i sacramenti E sono stati Irrisi Allora mi chiedo Padre Livio Se anche in questo scenario Di radicale emergenza Non venga a galla Esattamente Quest'odio contro Cristo Che dall'inizio Del cammino Terreno Della chiesa Segna un po' Il destino Dei cristiani E che semplicemente Andrà crescendo Fino al tempo Dei segreti L'autore Che Meglio di tutti Ha descritto Diciamo L'apostasia Dall'occidente È Josef Ratzinger Dico Josef Ratzinger Perché l'ha fatto già Quando era giovanissimo E l'ha fatto con frasi Tremende Una di queste frasi È proprio questa Che noi adesso Ci siamo liberati Di cristianesimo Come un vestito vecchio Senza lacrime E senza rimpianti Vedo Quindi già c'è Qui Qualcosa Di tremendo Cioè Adesso Gli ex cristiani Usano L'arma Del disprezzo Capito Loro si credono Superiori Loro sono quelli Che finalmente Hanno capito Che loro sono Dio Capito Ti guardano Dall'alto in basso Loro sono cristiani Adulti Cioè Loro hanno capito Che loro sono Dio Capito E guardano te Con disprezzo Adesso L'arma Prima l'arma Del disprezzo E poi l'arma Del ridicolo Ma la cosa che mi ha Molto colpito È che uno dei più Grandi geni Del nostro tempo È Joseph Ratzinger Un secolo Nell'ultimo secolo È stato il più grande Pensatore Un'intelligenza spirituale Superiore Un uomo di Dio Un uomo luminoso Un santo Joseph Ratzinger È stato ridicolizzato Durato il tempo Del suo pontificato Da chi Da personaggi Non so come chiamarli Da dei buffoni Capito Da dei buffoni Gente che vale zero Gente che magari Adesso è morta E nessuno sa neanche Se è esistita Capito Questa è dunque Queste due Punture di spirito Quotidiane Che abbiamo addosso E cioè Il disprezzo E il ridicolo Ma noi Come dobbiamo reagire Al disprezzo E il ridicolo Con la compassione Cioè Compatire Con le povere persone Di cui Satana Si prende gioco Mi viene in mente La parola della Madonna A tempo della guerra in Bosnia Satana Si prende gioco Di voi E io non posso aiutarvi Perché vi siete allontanti Dal mio cuore Facciamo tesoro Di quest'ultimo monumento Cercando di metterne La preghiera A coloro che ci Perseguitano Chiedendo anche La loro conversione Ma soprattutto Invocando Quel dono della fede Che rende più forti Nel tempo Della prova Un saluto a tutti Da parte di Diego Manetti E da me va l'elivio E il tempo Dei segreti Di Padre Livio Con Diego Manetti Edizioni PM E da me va l'elivio Grazie a tutti.